Musica 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 E arriva un duro attacca dai partiti di opposizione in consegnaio regionale, qui entra la giunta e Fedriga sulla gestione dell'emergenza Covid, sentì il consegnaio Massimo Moretuzzo. Noi pensiamo che è fondamentale, vuoi dire le cose come sono. Un rapporto del Ministero della Salute ha detto chiaramente che il conteggio fatto sui posti di terapia intensiva tra i nostri ospedali è sbagliato. Sono stati considerati come posti di terapia intensiva, posti che investiscono in gestione dell'emergenza Covid normale. Questo non va bene. Noi domandiamo che si dice queste cose come sono e che si chiate finalmente con la collaborazione di tutti. Noi siamo disponibili in che senso qui a affrontare una situazione, un lavoro difficile. L'ignana è stata scelta per la fiesta dal Prindalan Novax, organizzata dall'Associazione Liberi Sinas. L'invita le daura a girare in che stisoris talisciate, dei gruppi social frequentati che equintri la vaccina. La fiesta è provviat interventi diversi personaggi, anche i miei di sradia dall'ordine e coniusciuti tra i ambienti Novax. Il mio disacquardi su queste iniziative ha letto tal al Voso e il Sindic di Lignan, Luca Fanotto, che si dice sconcertate ai domande. Gli organizzatori fa da ormai un pass in daure. Non c'è nessuna ragione che giustifichi l'organizzazione di queste fieste in un momento così delicata. Alla dita in Chimo Fanotto. Alle morte la notte passate a 81 Ains, Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. L'imprenditore è stata anche proprietaria per il 50% dalla Torvis, comprata con Renato Andretta in tal 97 per 96 miliardi di liris dal gruppo Ferruzzi, caliere malmetute. L'azienda agricola chiapava dentro i passi, 3.800 hectare, scone 2.000 vattis di latte, produzione di blavis, formente soie e poi fidium sensale. Ennio Doris non è daù dal mister dal pari, ma li era sempre restate, come che aveva ricordato la Mirenato Andretta, la passione per l'arrevamento di Bestis. Si svea il chiate l'amico morte sul divan di chiese tragedie, dove di mattina a Sarvegnandola, che è un nome di 32 anni, dall'Uc, ospite di un cognoscente, le stati chietate 100 vite per colpe di un mal improvviso. In chiese non sono stati chietati sensi di baruffe o di violenza di nessuna sorta, e anche escludute la responsabilità di altre persone dalla morte dall'homme sul posto i carabinieri dalla compagnia di Palme. Di lui si vede in pierdudis l'isolmis dopo un incidente stradale agnotte passate. Fuarcis dall'ordine, pompiers, luancirut, parute le gnotte, anche i culiotori di un elicottere e dalla unità cinofile. Prindimisdilo anchiatata a chiese di Somari, conto un braccio rotte, protagonista della vicenda dell'Eunovni 46 anni di Cividat, che a mezzanotte miege di Iral, aveva pierduto il controllo della sua macchina e l'era finita fu di strada, e a orciando ogni remangiasse, sturnita e ferita, l'erivata d'Utkasha salta fu dall'abitacolo, e si è slontanata dal luco dall'incidente, e di che il momento si è ripierduta ogni olme di lui, finquant che non l'ho anchiatato. Fiesti rumorosi a Pradaman, in Tuneville, di Singers, il caso al finisco il paiamente di 39 euros. In tribunale a Udin si è risolto in questa maniera il processo per il disturbo della tranquillità pubblica, qui intri Claudio Braidic. L'uomo l'era incolpata, aveva fatto fiesti su un evo di numerosi scontante di musiche, fin alle cricade al Dì e fuggs di artifici, tra la villa di Famea Pradaman, in Talnadal, dal 2019, quando erano arrivati i santi e gli sfuarcis dall'ordine. I festeggiamenti avevano insultato i vicini e i paesians, e anche il sindico Enrico Mossenta, e aveva importato, allora, quel te di firmi, sedi ultimi al processo. Teleton, pal 2021, al torne al digital. Noi e plui corse di lunga le strade di Udin, la pandemia è oplea replicata il modello dal 2020, quando c'è tutto il cash, ha fatto in chiapassù 110.000 euro, girassi per le ricerche mediche. Sintin e scindic Pietro Fontanini, l'assessore regionale, Barbara Zilli. Teleton, purtroppo, chissà, non si può fare in presenza, è chiaro di fare l'informe virtuale, al displace, ma la pandemia è stata l'antendenante, ovviamente, ci attacca, un momento più sicuro, che sarà finita questa storia, e avremo la possibilità di tornare a Udin, a Cori, in città, avere miliardi di persone che danno fuorce a questo appuntamento, tra l'altro, con anche risorse economiche importanti, perché ricordiamo che Teleton ha una finalità, una vera giusta, che è che aiuta i ricerchiatori per sconfiggere le malattie israeli. Teleton, anche quest'anno, ha una nuova formula innovativa per poter comunque correre a favore delle ricerche, quindi l'invito che facciamo è di mettere insieme a qualche amico e chiamare l'applicazione e poter correre per dare una mano a tutti i calotti per sostenere la ricerche, appunto, contro gli malattie israeli. Non i sarili, io penso che i sarili in tanti, perché la storia di Teleton non può fermarsi, perché vinca queste pandemie. Gli abitanti dagli isfrazioni di Lusnitz e Santa Caterina e talcomun di Malborghete e Valbrune saranno evacuati sabide di mattina per poter disarmare un'e bombe dalla ultima guerra. E' un'e bombe di aereo che non è esclopata e lunga circa un metro, occhiata dalla fine settembre talflume felle. Sarà fermati in maniere momentanea, anche al traffic sull'autostrada, a Vintiatrei, sulle pontebane, sulle strade, scattraviarsi le zone interessate dagli isoperazioni. l'ho prevato un'ordenanza firmata dal Scindic. E con questo è tutto, non si torniamo a Viodi domani, sempre a snurman col Vinti. Mande a Viodi, sì. Mande a Viodi, sì. Mande a Viodi, sì.